Ragazzi e disagio post pandemia, bilancio di un anno scolastico tracciato dal presidente dell'Associazione Presidi Vicentini, segnato dal ritorno alla normalità e alla presenza tra i banchi, ma un 2022 che ha fatto i conti con gli strascichi e i danni evidenziati dalla pandemia, dalla didattica a distanza al distanziamento sociale, nuove abitudini con cui gli studenti hanno dovuto ritararsi e di cui oggi restano segni visibili in termini di disagio. Due anni, due anni e mezzo in qualche caso non è un breve periodo per chi ha 14 o 15 anni, è un periodo molto lungo, un percentuale che incide e la diminuzione della socialità ha provocato delle conseguenze non indifferenti che noi troviamo proprio negli aspetti emotivi, negli aspetti relazionali, negli aspetti anche di identità di genere, di disturbi alimentari. Purtroppo i ragazzi temo che porteranno questi segni per molti anni e li dovremo accompagnare per molti anni perché li possiamo superare. Disagi degli studenti che i dirigenti scolastici toccano con mano ogni giorno e che nel post pandemia vedono il raddoppio in percentuale. Io non ho dubbi che c'è stato un raddoppio di queste, e forse anche di più, di questo genere di manifestazioni di disagio, autolesionismo per esempio, oppure disturbi alimentari, cose che una volta erano relegate alla marginalità, adesso hanno una rilevanza diversa.